Mi chiesto sono basso, eh? Rispetta a te. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo una cosa un po' diversa, ovvero, mangeremo lo stesso, infatti qui stiamo preparando dei bei pokkorn fatti a mano. Il dito dalle nostre magliette e dal titolo, oggi guarderemo il nuovo film di Dragon Ball e cercheremo di darvi una sorta di recensione. Come sono queste magliette, belle? Che saltano a grossenza. Io invece, purtroppo, oggi non sono un granché, perché sono quattro giorni che sono fermo e come ben saprete, natural, dopo che sono fermi un giorno, sembra che non sono mai entrati in palestra, quindi... Vabbè, oggi comunque andrò ad allenarmi e cercherò di dare il meglio. Ah, che strumento stai utilizzando per oleare e ungere la padella? Lo spruzzino, zero calorie! Lo spruzzino! Effettivamente, per cuocere pokkorn, servirebbero almeno un cucchiaio d'olio, è quello che suggerisce la confezione, ma utilizzando lo spruzzino, rimane tutto ben unto, senza esagerare. Poi noi siamo fit! Calorie extra! Molto bene! Oggi copriamo il format di alcuni nostri amici youtuber. Non so se li conoscete, si chiamano Inter Reaction e fanno le reazioni alle partite dell'Inter. Noi facciamo le reazioni, visto che non ci piace il calcio, va Dragon Ball, visto che ci piace molto Dragon Ball. da una schermata di quello che stiamo guardando. Dobbiamo cercare anche di sincronizzare. Ho Dove c'è il giapponese però è bella. Quindi questi non li ha creati loro? Eh, anch'io lo pensavo. Io sempre ho pensato che gli avessero catipo. Avevo le carine di sole scorreggia di... Quindi loro sapevano già che... Bronson sarebbe diventato mentalmente instabile. Ahia! Tante macchi... ...dicomani fai con il mio felcio! Un po' passi... ...dicomani... ...diatrio. Lai essa... Cioè Broly è veramente uno schiavo. Broly non si è mai allenato. C'è allenato solo con suo padre. Cioè Broly non si è allenato. No, è un cittadino che ha detto, che tempo! Hai colpito! Non so il cazzo! Mi ha fatto bene a cercare le lingue vicine a me Ah mica va la bocca addirittura Come la fa! E non è ancora nella forma, assolutamente Questa è passia il trailer Forma normale Figa Per qualcosa La prima o poi si trasformerà in Super Saiyan Questa è che la dos è anche padre, dunque Sembra molto più grossi di prima che quando ero iniziato Questa è che la dos è anche padre dunque Sembra molto più grossi di prima che quando ero iniziato Ehm 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 Ma io l'ho sentito ciò Graffi Perché stanno ancora giocando Mi è C'è rimasto un po' Ehm Ma io l'ho sentito Ehm 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 Scusami, la sorella di Keita Lì non ci chiamano, la di Keita Che scherzo che è La storia La storia La storia La storia La storia brutto super zaino Non credo che ne vedi un cazzo Chi vede non ammazza Se la sono sfignata Questa mi pare sia gogetta Questa è gogetta Ma a me sembra che te l'ho visto Beh gogetta l'avevi già visto Un po' sbruffone Gogetta forse è l'unico che può farcela Questa è l'unico che vuole 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 Sicuro non sono di 5 cm di differenza E' l'unico che vuole Questa è l'unico che vuole Questa è l'unico che vuole Ah l'hai rimandato su? Ma no, ma dai, ma che cosa è, ma Cristo, aveva una forza per le cose col culo, eh. Ma sarà mica dopo? Oh no. Ah, è vero che le capse, se non c'è una manicola. Basta! Spiro boom! E' impressionante, diventa amico di chiunque E' finito Anche voi avete visto il nuovo film di Dragon Ball Z? Broly? Era Dragon Ball Z Ho visto anche voi fateci sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate Anche perché noi ci aspettavamo qualcosa di più... Si è vero Allora è piaciuto il film Però è stato strano il finale Pensavo sarebbe finito in un'altra maniera Ci aspettavamo la morte di qualcuno Insomma comunque che qualcuno arrivasse in fin di vita Ma non abbiamo visto questo Non abbiamo fatto nessuna mangiata Se non alla fine i nostri pop corn che però sono finiti Ed erano veramente tanti Sembravano durare all'infinito Mi raccomando Buon appetito Buon appetito ragazzi Buon appetito Buon appetito Buon appetito Buon appetito Buon appetito Buon appetito Buon appetito